Heather Terrell è autrice di La Guerra degli Angeli, una nuova emozionante serie di urban fantasy. Aurelia ha 16 anni e vive nella piccola cittadina di Tillingast, nel Maine. Ha un misterioso inspiegabile dono. Sfiorando le persone riesce a sentire i loro pensieri e a vedere alcune immagini del loro passato. Si è sempre sentita diversa e non è mai stata completamente a suo agio con i coetanei. Fino a quando in città arriva Michael, un ragazzo solitario e affascinante. Tra loro nasce subito qualcosa. Pian piano si accorgono anche di avere gli stessi poteri e di amare entrambi il sapore del sangue. Sono angeli, vampiri. La verità è racchiusa in un segreto antichissimo, in una guerra tra forze oscure e inimmaginabili, destinate a sconvolgere la loro vita e il loro amore.